Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in vendita un appartamento sito Pavia e la zona è quella di via Ferreni, quindi una zona semicentrale. L'appartamento in questione è un bilocale che è stato completamente ristrutturato. Si trova al piano terra, quindi non ha neanche barriere architettoniche, quindi uno che fa fatica a fare le scale può acquistarlo tranquillamente. Ok, dopo il bagno andiamo a dare un'occhiata al soggiorno con i cuocivivande, il cuocivivande è anche la finestra, quindi se uno cucina pesante può chiudere la porta e far uscire tutti i fumi. Ok, dopo aver visto il soggiorno ritorniamo nel corridoio e andiamo a dare un'occhiata alla camera da letto che è una bella camera da letto matrimoniale. I pavimenti sono stati tenuti, quelli dell'epoca però li hanno levigati tutti, quindi è una cosa molto bene. Il riscaldamento è semicentralizzato. Perfetto, adesso vi propongo altri due appartamenti da acquistare come investimento. Uno si trova in Piazza Petrarca, mentre il secondo, quello basso, si trova nella zona di Viale Lodi. Quello di Viale Lodi viene venduto con l'arredamento compreso nel prezzo. Se non vi interessa vi potete iscrivervi al mio canale di Youtube nella parte sotto oppure alla mia newsletter e vi aggiornerò tramite mail sulle nuove offerte. Grazie a tutti.